Mi hanno diagnosticato il papillomavirus, sono gruppo sanguigno A. A positivo. Come posso risolvere? Io dico sempre, per quello che conosco, che ho visto e vi dicendo, latte e derivati del latte, dolci soprattutto quelli cremosi, hanno una grossa responsabilità col papillomavirus. Ma può anche sparire. Si toglie gli alimenti che è opportuno toglierci. Questi sono i principali, ma poi ce ne sono tanti altri. Cin 1, cin 2. Sì, cin 1, cin 2, quindi va bene, non è la fine del mondo. E niente, prenda delle piantine di calendula. Si coltivi questa calendula che fa dei bellissimi fiori o gialli o arancione. Li può far seccare e poi può fare una ininfusione, prepara questa soluzione, e poi va in farmacia, compra quei bei perettoni che servono per le irrigazioni vaginali e tutti i giorni, al mattino appena alzata, per un buon periodo, faccia queste irrigazioni vaginali. Può usare, se non è comoda con la coltivazione della calendula, che adesso siamo un po' avanti, ma è una pianta che fa presto anche a svilupparsi, e può usare la tintura MADOS e l'estratto idroalcolico di calendula. Diluito tipo, poi dipende sempre dalla concentrazione, quindi comunque almeno 100-120 gocce, diluiti in un litro d'acqua, ebbene lei utilizzi e faccia queste irrigazioni. Si tenga sempre poi controllata, si faccia controllare dal suo ginecologo, e poi può vedere. Ho visto risultati stupendi, persone che hanno visto sparire, sparire completamente la presenza di questo virus. Fermo restando che i responsabili principali ritengo che siano quelli. Però le persone dovrebbero sempre chiedere, chiedere, insomma, informarsi, chiedere, ma come mai a un certo punto della mia vita sviluppo il papillomavirus? Perché, insomma, è possibile, non è? Il papillomavirus si può sviluppare in varie età. Ecco, questa è sicuramente un'età critica. Era ritenuto responsabile del papillomavirus del tumore del collo dell'utero, però c'è da dire che non sono mai state indagate le abitudini alimentari delle persone che sviluppano il tumore del collo dell'utero in concomitanza con la presenza del papillomavirus. Grazie a tutti.